benvenuto piero fassino presidente della commissione affari esteri del partito democratico buonasera massimo cacciari filosofo in libreria con il romanzo paradiso e naufragio per e inaudi e bentornato alessandro di battista in libreria con contro allora alessandro di battista e son passati più o meno sette giorni da quando l'italia ha dato il via libera alle armi ai resistenti ci stiamo muovendo bene che effetto sta avendo come si sta muovendo io sono contrarissime a inviare le armi in ucraina come già ho detto la settimana scorsa per una serie di ragioni per quanto riguarda il comportamento politico dell'italia credo che l'italia non si sta proprio muovendo presidente draghi considerato mesi fa come addirittura la nuova merkel in un certo senso autorevole come la merkel fondamentalmente non partecipa ai consessi che contano è stato bypassato sia ieri da biden schulz macron e johnson oggi o ieri sera c'è stato un importantissimo tra l'altro si ricorderà flore se il sistema scorso gli auspicavo il coinvolgimento della cina unico paese probabilmente insieme alla merkel che potrebbe far ragionare putin in questo contesto ecco ieri xi jinping si è riunito insieme a macron e schulz e di draghi neanche l'ombra io credo il presidente consiglio in questo momento si stia comportando come un cartonato una persona che non viene minimamente considerata all'estero perché evidentemente l'italia oggi sta comportando in maniera più imperialista dell'impero più realista del re e questo in politica estera si paga soprattutto quando c'è da portare avanti un negoziato vuol dire più imperialista dell'impero che quando fondamentalmente biden ha spinto i primi giorni per un inasprimento delle sanzioni con nei confronti della russia e il presidente draghi un po si è opposto all'inizio qualche ora poi è stato richiamato all'ordine da washington una serie di giornali americani hanno pubblicato degli articoli contro il comportamento di draghi il quale è tornato immediatamente all'ovile vi faccio vedere subito quello che è successo oggi a matteo salvini che era andata a portare la sua solidarietà all'Ucraina in Polonia Grazie a tutti Presidente Fassino quante non avevamo capito chi era putin io penso che tutti sapessi chi è putin putin è un autocrate non è un uomo democratico è un autocrate che gestisce il potere in russia diciamo come un'autocrazia da questo punto che putin in una famosa intervista un grande quotidiano italiano disse due cose una significativa quando gli chiese a lei chi si chi si ispira rispose pietro il grande c'è un'idea imperiale della russia e poi di quella di chi in quella intervista disse noi siamo una democrazia illiberale teorizzò che appunto il suo modo di governare la russia e in generale la sua idea diciamo del potere è un'idea autocratica quindi non abbiamo aspettato la guerra in ucraina per sapere chi è con la russia ma si si come dire nella politica internazionale si interloquisce con ogni con ogni interlocutore anche quelli che non ti piacciono perché non è che tu parli liberale nel nel migliore dei casi c'è stato in italia ad esempio salvini salvini aveva più volte parlato bene di putin ora ne risponde anche a livello internazionale ha parlato bene anche berlusconi ma che discorso è ma anche berlusconi aveva parlato bene di putin sì non solo abbiamo già nella prima parte della trasmissione elencato ecco questo è stato un errore da parte di una classe dirigente politica italiana superficiale che vedeva la bellezza del del decisionismo dell'azione dell'uomo forte che ora si paga o aveva un senso ma la bellezza ma la bellezza del decisionismo la vedono in tanti mica soltanto è un segno illiberale ma che discorso è la bellezza del decisionismo l'esaltazione permanente del decisionismo più decisionismo di quello di un parlamento come il nostro che si limita a convertire decreti più decisionismo di questo ma scusi vuole scherzare dai non stiamo a discutere cioè putin è chiaro che non è che non è un liberale che non è un democratico come lo potremmo intendere noi come forse lo intendavamo noi una generazione fa forse ecco più che adesso ma e poi la russia la russia il fascino lo sa bene insomma mi scoccia anche parlare di steccole che sono acqua calda la russia non è che abbia putin che abbia putin una vocazione imperiale la russia è un impero nel dna come gli stati uniti come la cina sono imperi è un concetto diverso rispetto a quelli stati e tu devi e se devi trattare con un impero devi sapere che tratti con un impero non c'è niente da fare se no fai a meno di andare anche a trattare perché se non hai nella tua se non hai una cultura storica che ti faccia che ti faccia conoscere minimamente che cos'è la russia che ci siano i bolschedichi che ci sia lo zar prima di tutto la russia è un impero sapete l'ucraina da chi è stata conquistata è stata conquistata dall'armata rossa l'ultima volta l'ucraina e hanno fatto 6-7 milioni di morti in 1920 è chiaro il concetto quindi c'è prima di tutto la russia e poi c'è l'unione sovietica lo zar caterina pietro il grande ma prima di tutto c'è la russia e se tu vai a trattare con putin devi sapere che tratti con la russia e mosca sapete come la chiamano la chiamano la terza roma di battista tutto chiaro io non solo sono d'accordo ho anche scritto in queste settimane nelle molte cose che ho fatto ho sempre detto bisogna fare i conti con la russia la sua ambizione a essere considerata perché lo è una potenza globale non è questo il punto diciamo il ministro degli esseri da noi la settimana scorsa ha detto il problema è se quella potenza c'è una linea politica dura nella prima parte il problema è se questa potenza globale vuole stare dentro un mondo in questo mondo sulla base di un rapporto di interlocuzione di negoziato con gli altri attori del mondo o se pensa di imporre il suo ruolo di potenza globale con la forza questo è il punto innanzitutto dico che il deputato fassino ha utilizzato delle parole molto sagge lo stesso non posso dire di alcuni rappresentanti del governo che appunto immediatamente dopo l'invasione l'aggressione russa a danno dell'ucraina che siamo tutti convinti ovviamente di condannarla non si può dire la stessa cosa perché sono state utilizzate obiettivamente delle frasi non diplomatiche e che secondo me hanno del tutto allontanato la possibilità dell'Italia di incidere perché oggi chi si sta occupando di trattativa non è l'Italia che tratto negli ultimi anni ricorderete che Putin pochi giorni prima dell'invasione ricevette i pezzi grossi delle partecipate italiane per cui negli ultimi anni l'Italia si era guadagnata uno spazio di fiducia con la Russia da utilizzare evidentemente in un momento anche di negoziato questo è stato perso per me delle frasi poco degorose di alcuni membri del governo per quanto riguarda ad esempio per capire io fossi stato di maio mai avrei utilizzato quei termini anche il presidente Draghi ha cambiato linea in 24 ore ma in generale da parte del partito democratico non da fassino mi riferisco al segretario Letta da una frange più estremista, più atlantista del partito democratico che attualmente è il partito che gode dei sondaggi più alti secondo me sono uscite fuori delle frasi che non servono minimamente al negoziato che hanno estromesso da questa partita decisiva in futuro per il futuro dell'Europa e di lista la stessa il nostro paese per quanto concerne appunto quel che diceva Pocanzi Cacciari condividevo per quel che concerne il fatto che si debba conoscere che si va a trattare con un impero perché come diceva Cacciari ma era d'accordo anche Fassino questo è la Russia per quanto mi riguarda essersi schiacciati del tutto su posizioni nordamericane aver confuso atlantismo e europeismo che per me non sono sinonimi tant'è che i confini dell'Europa dovrebbero essere una responsabilità dell'Europa e non della Nato per me questo è stato l'errore storico che ha estromesso l'Europa e maggiormente l'Italia che si sta comportando, ripeto, in maniera più realista del re da una fase storica che verrà utilizzata per rafforzarsi economicamente e politicamente dalla Cina Fassino abbiamo iniziato troppo pronato troppo schierati, troppo duri su Putin e ora ci tocca tornare indietro io penso che non possiamo eludere però un dato di fatto il dato di fatto è che tu sei di fronte ad una guerra che è stata scatenata dalla Russia né da Putin nei confronti dell'Ucraina quando non c'era nessuna minaccia verso la Russia perché l'Ucraina non ha minacciato certamente la Russia non è in grado l'Europa in questi 30 anni la Russia non l'ha minacciata mai perché vorrei ricordare che l'Europa è diventato il primo partner economico e commerciale della Russia e diciamo ha cercato di costruire relazioni di cooperazione in vari campi neanche gli Stati Uniti hanno minacciato la Russia in questi anni perché per gli Stati Uniti il principale competitore il problema è la Cina non è la Russia però erano gli ucraini che volevano venire di qua il problema è uscito quando loro hanno detto noi guarderemo là là probabilmente dice Di Battista forse dice Cacciari ora sentiamo bisognava considerare quali conseguenze ci sarebbero potute essere scusa un momento ma non diciamo delle cose che non stanno nessuno in terra è evidente che la Russia mica sono dei pazzi mica potevano pensare di essere minacciati dall'Ucraina ma neanche dall'Europa ma neanche la loro questione ma Piero lo sai perfettamente il loro problema è che l'Ucraina e quell'area territoriale da cui tra l'altro anche nata la prima guerra mondiale quell'area territoriale sia un'area neutrale neutralizzata finlandinizzata né da una parte né dall'altra questo non è stato posto seriamente su un tavolo di trattativa da parte dell'Europa e tantomeno da parte della Nato e degli Stati Uniti questa è la realtà dai lo sai benissimo questa è la realtà questo tema specifico non è stato posto al tavolo di una trattativa seria dell'Europa insieme e degli Stati Uniti con la Russia e questo è il problema dopodiché diciamo questo è un problema però professore che è un problema che sorge quando l'Ucraina mostra di preferire una parte alle due quando è l'Ucraina a dire è iniziata a pensare a noi quindi diciamo quando la libertà in Ucraina innesca questo fatto ma scusi un momento ma scusi un momento se no non susciterebbe neanche il problema se l'Ucraina fosse stata lei a dire sono neutrale non susciterebbe il problema ecco ma il fatto che l'Ucraina dicesse io voglio andare di là scusa un momento prego ma l'Ucraina dice che vuole andare di là certo dice così e dice così e questo preoccupa Putin e la Russia anche perché l'Ucraina ha una certa storia se non lo sapete non è qui il caso forse di farla ma c'è una certa storia l'Ucraina politica, culturale e allora chiedo questa a tutti e tre poi chiudiamo il nostro incontro tutto passa sopra agli ucraini se dura di più la guerra muoiono ma hanno più possibilità di trattare se si evita la guerra devono in qualche modo rinunciare a quelle che sono le loro volontà la pace passa sopra l'Ucraina Fassino di Battista Cacciari non passa sopra l'Ucraina si sta svolgendo il conflitto in Ucraina al centro di questo conflitto c'è l'Ucraina il suo destino, il suo futuro il rapporto tra la Russia e l'Ucraina e il rapporto tra la Russia e l'Europa e l'Occidente quindi è chiaro che si sta giocando lì sono loro che devono rinunciare sono loro che devono rinunciare attenzione un conto è un negoziato in cui sulla base di un negoziato una parte accede a una soluzione piuttosto che un'altra altra cosa è che ci sia qualcuno che esprime un diritto di veto e ti condiziona in qualsiasi scelta sono due cose diverse sono due cose diverse su questo con me ha ragione due cose flash la prima è evidente che in un mondo ideale l'Ucraina dovrebbe avere il diritto di entrare nella Nato nell'Unione Europea se volesse ma il mondo non è ideale qualora il Messico ripeto in questo momento governato da un presidente relativamente ostile alle Stati Uniti America che un socialista intendesse sottoscrivere un accordo di installazione di impianti mistilistici russi o cinesi al confine con l'Arizona secondo voi gli Stati Uniti America glielo permetterebbero? allora negare che esista da sempre la teoria delle sfere di influenza significa negare la storia altra cosa è concluto se Ivan Duque ricordiamoci di Cuba ricordiamoci di Cuba se l'attuale presidente della Colombia filo americano antimaduro fosse deposto da un colpo di Stato cosa che è successo nel 2014 sostenuto da Cina e Russia cosa che è successo in Ucraina perché c'è stato un colpo di Stato sostenuto da americani e britannici e fosse posto al posto di Ivan Duque un presidente filo russo o filo cinese secondo voi gli Stati Uniti America sarebbero a guardare questa è la verità storica e ce la diciamo con questo poi possiamo dare e dobbiamo dare dei giudizi etici e morali assolutamente denigratori ma l'etica e la morale purtroppo con la geopolitica hanno da sempre poco a che fare arriviamo al professor Cacciari solo il presidente Fassino facciamo passare così è stato un colpo di Stato a mettere in Ucraina il diciamo conseguenti elezioni Zelensky la storia politica dell'Ucraina dall'indipendenza in avanti è stata una storia turbolenta sono stati cambiati molti presidenti percorsi elettorali contestati da chi perdeva con accuse di brogli i presidenti che quando hanno perso le elezioni sono stati imprigionati quindi è una storia complessa però però per quanto complessa la storia dell'Ucraina questo non autorizza minimamente un altro paese a invaderla allora professor Cacciari il tempo passa professor Cacciari è fuori discussione professore mi faccia fare una domanda rispetto ai primi dibattiti questo sembra un dibattito di tutti i filo Putin il tempo passa filo Putin? ma che è filo Putin? ma che ti dice? contesto questa definizione ma io non ero filo Putin come non ero filo sovietico non sono mai stato filo sovietico quando ero del partito comunista non sono filo Putin ma cosa dice? c'è stato un momento professore in cui chi valutava la politica è realistica professore la politica è realismo c'è stato un momento in cui chi valutava il peso delle posizioni della Russia senza per questo abbracciare le ragioni di Putin veniva considerato filo Putin in questo breve spazio in Italia dagli idioti dagli idioti dagli idioti certo gli idioti ma il grembo degli deficienti è sempre fertile è sempre fecondo è sempre in stato interessante è così presidente Fassino c'è stato un momento in cui il pensiero doveva essere unico e l'analisi mi dischietta discutere con Fassino mi interessa discutere con il battito mi interessa discutere con gli idioti quello che dico io adesso e che mi premo unicamente dire e chiudo è che oggi l'imperativo categorico è fermare la guerra perché non la facciamo non la combattiamo noi la guerra questo è ovvio un po' di decenza la guerra significa morti e massacri di ucraini di russi di ucraini bisogna fermarla bisogna fermarla è evidente che bisogna fermarla bisogna convincere quelli che la fanno per fermarla per fermarla massimo bisogna convincere per convincere quelli che la fanno occorre che gli altri per convincere quelli che la fanno occorre che gli altri facciano quello che possono fare che non sono semplicemente sanzioni e mandare armi va bene ecco non sono solo sanzioni e mandare armi ma senza sanzioni e senza armi tu non convinci Putin andare a un tavolo di negoziato Presidente Fassina Alessandro I Battista la stessa domanda che ho posto a Cacciari e l'analisi delle posizioni l'analisi nazionale è stata scambiata per appoggio alle ragioni della Russia in questo paese o no per qualche giorno semplificazioni ci sono sempre in qualsiasi dibattito nel nostro paese come ovunque io penso che dobbiamo essere consapevoli che la Russia è un grande attore della scena internazionale e con la Russia deve fare i conti su questo non c'è dubbio e si è sempre fatto sono sempre fatti i conti con la Russia è questo che io contesto perché l'Unione Europea in questi 30 anni dalla caduta del muro di Berlino con la Russia ha fatto i conti allora le cito solo un esempio quando nel 2004 si allargò fammi parlare Massimo ascolta un altro non si sente quando nel 2004 si decise di allargare l'Unione Europea ai paesi dell'Europa centrale e la Russia non lo voleva proprio per dimostrare che non era un atto ostile verso di loro nelle stesse settimane si firmò l'accordo tra l'Unione Europea e la Russia il primo accordo di partenariato che è stato rinnovato fino ad oggi quindi l'Unione Europea non ha sviluppato nessun attesamento antagonistico verso la Russia di Battista in cui si è proseguito con l'allargamento dell'Unione tirandosi dietro la Nato non è stato certamente un modo di trattare con la Russia riconoscendogli quella dignità che non gli viene soltanto dalla sua storia imperiale ma gli viene guarda caso da quella bazzecola lì che ha vinto la seconda guerra mondiale a proposito ancora ti ricordo che da 15 anni esiste un consiglio di cooperazione Nato-Russia creato esattamente per costruire un'interlocuzione tra Nato e Russia tra l'altro come ha detto Cacciari senza l'Unione Sovietica secondo l'Unione Mondiale mai sarebbe stata vinta diciamo dalle forze alleate oltre 20 milioni di morti nonostante poi Benigni faccia liberare i campi di concentramento dai carri armati americani non sovietici ma al di là di questo per rispondere alla sua domanda se a me poi è capitato io vado avanti perché io di questo nuovo clima del maccartismo 2.0 illiberale e fascista e c'è in Italia me ne infischio ma qualora Fassino avesse detto delle cose per messaggio che ha detto questa sera dieci giorni fa anche a Fassino gli avrebbe dato del filo Putin no io io continuo a pensare che bisogna stare dalla parte dell'Ucraina ma neanche assolutamente assolutamente so benissimo che per andare a una soluzione politica devo fare i conti anche con la Russia e di fatto il negoziato serve a questo Alessandro I Battista Piero Fassino grazie professor Cacciari grazie a tutti grazie a tutti